Eccoci quindi qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video in cui risponderò in maniera totalmente amichevole e tranquilla agli ultimi video caricati dallo youtuber Asso di Roma, lo dico proprio di principio perché non voglio che voi pensiate che io faccio questo video per andare contro lui, per aprire la giornata del leasing visto che d'estate ci si diverte spesso ad insultarsi a vicenda assolutamente no, io voglio rispondere tranquillamente e non solo a lui ma anche a tutti quelli che hanno sostanzialmente la sua opinione Nei suoi ultimi video inerenti al calciomercato Asso di Roma si è sostanzialmente lamentato delle tante voci, delle tante chiacchiere che però ancora non si tramutavano in ufficialità accusando tra virgolette il nostro DS di essere un po' lento diciamo nelle trattative sostanzialmente parlando perché se tu ti lamenti di non aver, di aspettare troppo per le ufficialità vuol dire che sostanzialmente consideri il lavoro del DS un pochino più lento del previsto poi magari ho capito male io, ci mancherebbe altro però sono sicuro che non è la sola persona a pensarla così a parte che mi fa ridere questo perché dopo il suo ultimo video a riguardo in giornata sono arrivate praticamente le quasi ufficialità di Mancini e di Veretù come se la Roma avesse visto i suoi video e avesse deciso ecco questo ci critica ufficializziamo tutti i giocatori adesso così almeno se sta zitto e non si lamenta più ma a parte gli scherzi a proposito domani mattina se dovesse esserci l'ufficialità farò il video anche su Veretù alla Roma detto questo allora io penso che Petrachi finora stia facendo un buon lavoro ma mi spiego perché purtroppo in molti si dimenticano che in questi ultimi due anni è passato l'Uragano Monci l'Uragano Monci che ha distrutto tutto quello di positivo che era stato fatto fino a quel momento in casa giallo rossa lo ha tramutato in plus valenze a questi sbagliati e che più ne ha più ne metta distruggendo una rosa che prima del suo arrivo era seconda solamente alla Juve e di pari livello allo stesso Napoli cosa che in questo momento appare folle visto che sia Juve che Napoli che Inter che in quel momento era inferiore a noi sono diventate non dico irraggiungibili ma sicuramente superiori a noi e in tutto questo ci sono una molteplicità di colpe tra cui però soprattutto quelle di Monci che ha fatto una squadra totalmente disastrata prendendo giocatori non scarsi ma inadatti al gioco del nostro allenatore e anche scarsi cioè scarsi e inadatti un bel connubio di Pipponi e ha quindi rovinato un lavoro che ci eravamo portati avanti per anni perché giocatori come Pjanic, Salah eccetera eccetera comunque l'abbiamo dovuti costruire cioè ad esempio Pjanic era dal 2012 che era alla Roma e abbiamo dovuto farlo crescere per farlo diventare poi il giocatore che effettivamente è diventato adesso non sto dando la colpa a Monci perché per esempio Pjanic non è stato venduto da lui però sostanzialmente parlando dal suo arrivo in poi molte cessioni sono state davvero pesanti e soprattutto non sono state collegate da acquisti adeguati perché adesso sto facendo questo paragrafo su Monci? lo sto facendo perché in molti si dimenticano che Petrachi è qui da qualche mese è stato ufficializzato da due o tre settimane ma ovviamente era già operativo da diverso tempo ma non poteva ufficializzare gli affari perché giustamente non era ancora stipendiato dallo stesso Torino Petrachi è arrivato a Roma in una situazione disastrosa con una squadra sfiduciata, con un nuovo allenatore, con dei tifosi scontenti e con tanti giocatori che ci stanno rifiutando, che ci hanno rifiutato e che ci stanno rifiutando e che ci rifiuteranno in futuro proprio per questa situazione perché non tutti hanno la forza mentale di andare in una squadra e cercare di farla rinascere molti giocatori preferiscono andare in squadre già pronte che gli possono garantire un posto da titolare più soldi eccetera eccetera quindi già per questo motivo Petrachi ha un mercato condizionato dalla situazione attuale della Roma perché guardiamo la Juve senza fare paragoni ovviamente ma la Juve se vuole un giocatore al 90% lo prende a meno che non arriva un'altra squadra e offre chissà quanti milioni in più ma ha un appeal decisamente diverso rispetto a questa Roma cioè un conto se parliamo della Roma post semifinale di Champions oppure quella di due anni prima ma parlare della Roma attuale è difficile cioè cercare di concludere affari in poco tempo con la rosa attuale, con l'ambiente attuale non è facile perché giustamente i giocatori ci spensano due volte prima di venire alla Roma attuale e per questo motivo per me se tu ti presenti e vieni ufficializzato il primo luglio e in due settimane mi riesci a prendere Paolo Lopez, Mancini, Diavarà, Veretù e Spinazzola per me finora hai fatto un buon lavoro certamente le cessioni importanti sono state fatte ma ognuna secondo me è giustificabile perché per quanto riguarda Manolas la dovevi fare per sistemare il fair play finanziario che è diventato un problema ancora più grande proprio per la mancanza del raggiungimento degli obiettivi della scorsa stagione perché se la Roma fosse arrivata in Champions sicuramente avreste avuto bisogno di meno soldi e meno cessioni da fare entro un determinato periodo ha ceduto Luca Pellegrina da Juve facendo una plusvalenza importante per quanto riguarda appunto questo bilancio del fair play finanziario ha ceduto Manolas tornando sul discorso perché il giocatore se ne voleva andare e il Napoli ha pagato giustamente la clausola poi si può discutere sulla questione di Diavarà o meno ma sulla cessione nulla da dire e ha ceduto Escharawi perché una squadra con i giocatori in scadenza di contratto gli ha offerto 5 volte tanto quanto sarebbe stato il massimo stipendio che la Roma gli avrebbe potuto offrire quindi le cessioni importanti finora sono state fatte e sicuramente non saranno le ultime ma per me almeno finora sono tutte giustificabili non parliamo di uno strotman ceduto a fine mercato o di giocatori svenduti tanto per parliamo comunque di giocatori che per un motivo o per l'altro secondo me è stato giusto cedere anche perché la scorsa stagione tutti quanti ci siamo messi in testa che dovevano partire tutti dopo il 7 a 1 di Firenze dovevano essere tutti mandati via calci in culo e adesso partono e ci lamentiamo ma comunque il discorso è fondamentalmente questo Petrachi non deve solamente fare mercato e già per questo è difficile per i motivi che vi ho detto prima ma deve anche rimediare a tutti gli errori fatti in questi due anni non in una sessione di mercato in due anni perché di pipponi che erano l'anno scorso in prestito ad altre squadre o comunque nella nostra rosa ce ne sono tantissimi e cercare di venderli tutti è difficilissimo soprattutto perché si sono svalutati una cifra e per me finora se sei riuscito a cedere Gerson per 11 milioni e mezzo più una percentuale sulla rivendita Marcano prendendoci 3 milioni quando l'hai presa a zero e anche altri giocatori significa che stai facendo bene e io sarei contento anche se la rosa non venisse completata al 100% perché capiamoci che è veramente veramente difficile per me è già solo migliorarla cedendo anche i vari esuberi che comunque finora non fanno parte del progetto Roma già si è fatto un buon lavoro poi ovviamente dal prossimo anno qualora aumentassero gli introiti come partecipazione a Champions League magari la vittoria di qualche titolo eccetera eccetera sicuramente si potrà fare un lavoro più completo ma arrivando in questo momento è difficile fare di meglio secondo me non possiamo pretendere nomi più altisonanti di questi per me già se prendi giocatori come Di Avaraiver e Tu che conoscono benissimo il campionetto italiano Mancini che è un ottimo prospetto e magari Alderweald quello bisognerà volarci su ma è normale visto che parliamo di un ottimo giocatore stai facendo bene in poco tempo stai facendo benissimo perché stiamo parlando di due settimane cioè in due settimane ufficializzare questi colpi non era facile e per me sono comunque giocatori adattissimi allo scopo della prossima stagione e cioè qualificarsi alla UEFA Champions League mi fanno ridere quei commenti di quelle persone e qua Asso non c'entra nulla che dicono eh dopo la stagione scorsa devi fare acquisti di livello acquisti top ma è proprio perché abbiamo fatto una stagione di merda che non puoi fare questo genere di acquisti non è che noi ci siamo divertiti a fare una stagione di merda lo scorso anno purtroppo si pagano le conseguenze non sei arrivato in Champions devi fare più cessioni e i giocatori se ne vanno via perché giustamente finora dal 2014 eri sempre costantemente in Champions e non ci sei andato molti giocatori non sentono più l'appeal della competizione europea e decidono di andarsene o al contrario non vedono che tu sei in Europa e non vengono da te in Europa parlo ovviamente di Champions League e quindi il mio discorso fondamentalmente è questo Petrachi sicuramente qualche acquisto lo potrà sbagliare non sto parlando del migliore DS del mondo però arrivando in questo genere di situazione mentale e tecnica soprattutto riuscire già solo a cedere buona parte dei pipponi facendoci comunque un discreto introito e sistemare il bilancio del felper finanziario e fare acquisti soprattutto adeguati al gioco del mister per me vuol dire aver fatto un ottimo lavoro poi il campo dovrà dire la sua sicuramente sul campo bisognerà vedere se questi acquisti saranno stati realmente azzecati o no però criticarlo adesso mi sembra un pochino eccessivo perché per qualsiasi cosa secondo me ci vuole il giusto tempo per prendere giocatori importanti e per prenderli in generale nella situazione attuale della Roma ci vuole tempo ci vuole tempo e pazienza perché bisogna convincere i giocatori con un buon stipendio con un posto da titolare eccetera eccetera ovviamente bisogna convincere le squadre con una buona spesa economica quindi soprattutto per i giocatori più importanti quali Higuain, quali Alderweald eccetera eccetera stiamo calmi facciamo con calma perché sono trattative che per forza di cose bisogna gestire bene perché comunque la Roma finché può vuole spendere meno per questi giocatori anche perché non ce lo possiamo permettere non possiamo permetterci di spendere una spesa così elevata per prendere questo genere di giocatori se si può risparmiare tanto meglio poi qualora non arrivi nessuno oppure arrivino giocatori non adatti al gioco di Fonseca o non bravi tecnicamente ci si può benissimo lamentare ma lamentarsi ora del lavoro di un poveraccio che comunque in poche settimane ha il compito non solo di fare una buona rosa secondo le idee del mister ma di buttarsi via tutte le pippe che sono state prese in questi due anni e speriamo ovviamente che ci riesca anche con Zonzi non tanto perché secondo me è una pippa ma perché il giocatore sembra che se ne voglia andare via quindi è inutile tenerlo oltretutto contro voglia per me già solo fare queste cose vuol dire aver fatto un buonissimo lavoro poi ovviamente queste cose bisognerà valutarle nel lungo periodo però secondo me lamentarsi ora dell'operato di Petrachi e perché parla troppo e perché ci vuole più tempo per l'ufficialità mi sembra veramente assurdo lo dico, lo ripeto, non per attaccare Assi in qualche modo ma per semplicemente rispondere a tutti quelli come lui che si stanno un pochino lamentando perché la situazione a quanto pare sta andando un po' a rilento anche se, lo ripeto, mi fa ridere questa cosa perché dall'ultimo video caricato stanno per essere ufficializzati sia Mancì che Veretù come se la Roma avesse appunto sentito e visto i video dello stesso Asso detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate non solo della mia opinione ma anche della sua tranquillamente lo ripeto, non voglio fare questo video per alimentare odio o altro sicuramente l'ho messo nel titolo per farci qualche visual mi sembra anche ovvio ma non è che la faccio dicendo cose sbagliate semplicemente gli rispondo in maniera totalmente tranquilla e spero che ovviamente anche nei commenti ci sia questa tranquillità detto questo ragazzi allora fatemi sapere cosa sotto nei commenti credo di averlo già detto un'altra volta non mi ricordo comunque un saluto e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi